Nelle avventure precedenti Ciao Velve, io sono Guad Io sono Matte E io sono Rudolf Benvenuti al Carmageddon Bene Velve, oggi vi diamo il benvenuto in questo nuovo video sul nostro canale Un video dalla pericolosità tagliata Visto che gli ultimi contenuti che abbiamo portato sul canale Tecnici sono piaciuti A sto giro abbiamo deciso di prendere una componentistica molto importante per l'auto E di testarne la resistenza Infatti signori andremo a verificare la sicurezza dei parabrezza davanti a dei pericoli e delle situazioni che ci possono essere per strada Ci siamo infatti procurati 10 parabrezza e abbiamo pensato a 10 modi per testarli per verificare 10 situazioni particolari Ovviamente partiremo con un livello di stress basso all'inizio per poi procedere con oggetti sempre più aggressivi Quindi state sul pezzo, guardate tutto il video perché il bello arriverà strada facendo Ma prima di iniziare ragazzi lo sponsor di oggi è Surfshark Vi lasciamo qua, spettacolare Mi raccomando supportate come sempre chi supporta Carmageddon Ma adesso vi lasciamo la sua mega presentazione Nel caso in cui non lo conosciate infatti Surfshark VPN è un'applicazione o estensione del vostro browser Che vi permette di posizionare la vostra connessione tramite telefono o computer o ovunque nel mondo Ciò significa che se mi trovo negli Stati Uniti in vacanza e voglio guardare la mia serie Netflix italiana preferita Diventa possibile O viceversa, se mi trovo qui e voglio guardare le migliori serie americane Posso farlo grazie a Surfshark Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quando sei online Tiene i tuoi dati, le tue password, le tue foto e i tuoi video totalmente al sicuro Inoltre puoi sbloccare siti e contenuti che normalmente sarebbero inaccessibili Surfshark non monitora e non tiene traccia di tutto quello che voi fate online Inoltre nasconde il vostro VPN e protegge i vostri dati con una criptografia non tracciabile In aggiunta è l'unico VPN che con un singolo abbonamento vi consente di scaricare e utilizzare Surfshark Su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente Dunque Belve trovate il link personalizzato in descrizione per scaricare immediatamente il VPN Inoltre con il codice Carmageddon avrete l'83% di sconto più 3 mesi gratuiti Io fossi in voi, ne approfitterei subito Molto bene Belve, siamo usciti fuori all'esterno perché questo sarà il luogo del test E dato che gli oggetti che andremo a lanciare, ve li svegliamo poco a poco La prima cosa da fare è spacchettare il primo vetro Procediamo, ci inizia Qui come potete vedere sopra il nostro meraviglioso pacco abbiamo il buon logo di auto-divisione Bortolotti Che ringraziamo Sì, legami tutto qua Questo è pari, questo è di Panda Ne abbiamo tre di Panda quindi potremmo vedere anche qua la resistenza del Panda Armato È Natale anche oggi Emilio Mer, ma gli hai incartati veramente bene Bortolotti Allora qui su questo tavolo abbiamo nove vetri di classiche auto-utilitari Come possono essere Opel Corsa, Panda, Golf e poi anche un vetro di un furgone vecchio Master Quindi vediamo come se la cavano È Pandarella Guarda lo tolo Fiat Guarda gli classici bollini Panda Poi c'ha la forma del Pandarella Allora, classica situazione da tutti i giorni Ti cade una monetina, rimbalza sul catrame, rimbalza ancora di più, salta e vi arriva sul parabrezza Ecco cosa succede, lo stiamo per scoprire Allora signori, primo test, moneta da un euro Vediamo cosa succede Vedete, vedete Eh già, siamo sicuri che la morte con il Panda Armato è certa Così direi che, non lo so, guarda che bella pezza Panda mi spaventa per me Hai ragione Vai Matte, fissilata, più forte che puoi Bel ciotto qua Ma bro È quasi artistica però È bel busso Dopo il test, ogni volta che avremo danneggiato il vetro lo porteremo qui all'interno per verificare chiaramente i danni Questi sono i danni da monetina Potete vedere i vari corpi La sberra del Mance Il mette poi in centrale perfetto Infatti questo ha tirato una crepa che se basta forzare un attimino dal lato Ed è già rotto a metà Esattamente Secondo parabro Vinga, sempre qua Grazie al demolizione Portolaus L'assico litigio fra voi e la vostra fidanzata o ex fidanzata Scendete per strada, salite in macchina, siete pronti per investirla ma Lei vi tira il burro cacao sul parabrezza Lo rompe? Scopriamolo Ok No, ha esploso la bella No Dividi che c'è una crepa in pazzismo Non l'ha fatto crepe Zero Allora abbiamo constatato che contro oggetti simili al abello, di peso e dimensioni simili, di parabrezza sono fenomenali Oh, mi c'è se si roba un po' più gasatella qua Questo è già un bel muro Un episodio sgradevole che è successo realmente Ragazzini che dal cavalcavia lanciano sassi, pezzi di rocce sulle macchine sottostanti Se salva il parabrezza, cosa succede? Voi vi salvate? Questo è un tiro medio Partiamo col mattone Senza che nessuno lo faccia intenzionare Guarda come se fosse, esatto, questa è una canù E non è intenzionale Oh Brodi? Questo è salvo Ma non c'è neanche, no, no, no Guarda Non l'avevo detto io, regalo Guarda Zero Zero Vai, un po' più forte È anche arrivato molto bene No, l'ha preso molto pari No, un bel busso Mentre ragazzi, se una pietra dovesse arrivare a grande velocità o da un'altezza spropositata Che cosa succede al nostro vetro? Vai, metti tutta la forza che hai Se passi dall'altra parte, cambio auto Non è andata dall'altra parte Tostissima, ma non è andata dall'altra parte È appena successo che il vetro, il vetro praticamente si fa in mille pezzi La zona d'impatto, ma il film di plastica dentro si piega, si allunga, si deforma Ma non si rompe, raga, non si rompe Ora vai Continua a non voler andare a tirare No, no, è tutto piegato, è dilaniato Ma comunque No, io l'ho preso qua È attivo il film Allora, ovviamente abbiamo fatto un test su un vetro un po' più grossettino Abbiamo provato anche con una roccia molto più grossa Il film ha resistito, però abbiamo fatto tre colpi direttamente qua Però il film ha resistito Il nostro obiettivo è vedere se un oggetto entra e può far male al conducente In questo caso la Peugeot è stata ottima perché non è entrato l'oggetto dentro e ha resistito Passiamo al prossimo Siete i 100-120 orari davanti a una scuola Spero non succeda mai perché se no prendete la multa Esce la palla perché un ragazzino la svetta Vi colpisce il parabrezza Si rompe, non si rompe, si crepa, entra la palla Non sappiamo cosa succede, lo scopriremo tra poco Voliamo Un'eternità più tardi Eccola Eccola Allora, valutazione finale direi Hanno cercato di tirare una pallonata un po' forte Per simulare una macchina che a velocità Arriva contro un pallone Lanciato da un ragazzino Potete vedere gli urti Uno lì, uno qui, uno qua Il parabrezza non si è sbriciolato Però chiaramente si è rotto Avanti col prossimo Vittoria degli europei Sei in Piazza Verdi a Bologna E un ubriaco per festeggiare Ti lancia una bottiglia su parabrezza Dopo avergli spagato le ginocchia Torni a controllare parabrezza Vediamo in che condizioni rimani Mi toccasco perché voglio andare veramente molto vicino a tirarla Vetro contro vetro Quale cederà prima? No bro Allora No bro Ho il pinello rosso, tiene Si è rotta molto prima il vetro della macchina Che il vetro della boccia Ammettere Giro la verità non pensavo Non ci faranno tu masse Ma zero Vai vai fai tanto intubriato Mi trovi che te Oh cioè Ah vuoi proprio passare dall'altra parte Vuoi passare dall'altra parte Sì È passata È passata È passata Faccio in pass Subito di là Aia La boccia è pericolosa eh Allora signori La bottiglia mi vuole dirlo Ma passa di là Al terzo lancio Che in realtà non era nello stesso punto Ma era un po' più in alto È passata di là Quindi abbiamo la bottiglia Che è in sé inserita Ed è molto pericolosa Quindi quando siete in giro Avete degli ubriachi Che vi lanciano le bottiglie Coprite il video in viso È meglio Situazione anomala questo giro Un incendio Una fiamma Una fuoriuscita di gas Quindi una vampata Quanti secondi resiste il vetro Prima di danneggiarsi Allora questa è un pochino La cosa più ci incuriosisce Nel senso che questo è un cannello Si chiama Libra Chiaramente E vogliamo provare a vedere Che effetto fa Andando ad appoggiare Sul barabrezzo Mamma mia Brody Teoricamente dopo un po' Dovrebbe crepare Il vetro di base È temperato Da tal calore La fiamma È la parte più calda Della fiamma Quella blu Eccolo 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 Allora Si brucia la plastica dentro Guarda Si Ah è grepa Ok Guarda È f***ata Polle la plastica dentro Polle la plastica dentro Senti che c'è un codore È lei Questa c***a Scoppietta Era anche caldo il vetro Allora Constituzione finale Il vetro ha rischiato di sciogliersi Come vedete Da questa difetta Diciamo ha cominciato ad avere dei difetti Plastica interna si è sciolta Muovendosi e dilatandosi Ha lanciato delle crepe Diciamo che se siete in mezzo alle fiamme Avete almeno un minuto scarso Prima di lanciarvi fuori dalla macchina Prossimo Ci sono due cose che mi danno il panico in autostrada Chi trasporta auto E chi trasporta pali d'acciaio Vedremo cosa succede Se un camion pieno di pali d'acciaio Ne perde uno E ti si ficca nel parabrezza Andiamo a vedere cosa succede Sono molto curioso Proviamo con questa freccia di puro ferro Peserà 8 kg Vediamo cosa succede Oddio Neanche rimasta lì Proprio passata dall'altra parte diretta Morte certa Punto Non ce l'ha trovato a dire Ok Per fare esattamente questo Lo sai come sembravi Sembri quegli guru dell'Africa Sapete che corrono tutti Ma le camion Ma le camion dove entro Sta cadendo da un camion Quindi sarebbe quasi capito Fare così E farglielo ai 30-40 orari Entra qualsiasi velocità E allora devi pensare Che la tua faccia è dietro Dunque i danni sono evidenti Sono veramente gravi E non pensavo di questa portata Quindi di conseguenza Se in autostrada O comunque per le strade cittadine Siete dietro a un camion Che trasporta materiali edilizi O simili Distanza di sicurezza Meglio per voi Situazione classica di film di auto Gomma impazzita che viaggia in strada E colpisce fortissimo il parabrezza Andiamo a vedere cosa succede Stavolta controlliamo noi la situazione Sono veramente curioso A parte che questa non sarà mai La velocità di un camioncino Che perde una ruota Ma proviamo Questa era piano Raga io non ho mai visto Né dal vivo Né in nessun film Fortunatamente dal vivo no Ma una gomma volare per strada A bassa velocità Quindi adesso testeremo la realtà Spagato il tuo Il problema è che è tu Che sei guardato il video In teoria sei lì dietro Tu sei lì dietro Ok le condizioni sono terribili Tu eri lì dietro Allora per adesso Questa è stata la circostanza Più pericolosa Se sei fortunato Che è ben incollato Il vetro non si sfonda Perché ovviamente Questo è stato un test Senza colla ai lati Però l'urto è veramente violento Io non starei dietro Un camioncino Con le ruote sbilenche Fossi in voi La situazione è questa Strada piena di ciclisti Chiaramente voi state facendo I due all'ora E so che ognuno di voi Ha almeno una volta Pensato di scassarli Tutti quanti Ma vi siete mai chiesti Se farlo davvero Danneggia il vostro parabrezza? Copriamo La curva non è facilissima da fare Il vetro della panda È il peggiore della storia Dei vetri delle panda Il concetto è che Se tu sei in una panda Non hai sperato Cioè La morte sopraggiunge Per forza Si può piegare Come un libro È proprio preciso È un più vicino Non so cosa dire Il vetro della panda Si è rivelato Il peggiore della storia Dei vetri parabrezza Ragazzi Non c'è veramente Niente da fare Proprio anche qua C'è scritto Il vetro della panda Non vi proteggerà mai È il figlio Signori boss finale Un tronco gigante Sono le 8 del mattino State andando a lavoro Una zona un po' montana Guardate in alto C'è un signore Che alle 8 del mattino Si è fiammato il grappino Taglia male Vi si fiamma il tronco Contro il parabrezza Entra dentro Ve lo troverete di fianco a voi Al posto del passeggero Non lo sappiamo Lo stiamo per scoprire Signori Guarda In questo tronco Sono il boss finale Dobbiamo simulare L'altezza di un altro Con calma Vieni via Vieni via Vieni 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 3 2 1 Si Dai Si dai Ce l'hai portato dietro Si dai Ma bro Allora ragazzi Boss finale Superato o non superato Non lo sappiamo Le forze in gioco Erano veramente tante E potenti Il vetro si è accartocciato Però non sappiamo effettivamente Se un tronco di questa portata Se vi arriva sul parabrezza Vi entra in macchina o meno Secondo me Ci sono buone possibilità Che ve lo portate proprio a casa In braccio Bene ragazzuoli Siamo arrivati alla fine Di questo ennesimo Super video tecnico E' stato veramente interessante Testare tutti quei vetri Con moltiplici oggetti E personalmente Mi porto a casa Un insegnamento molto importante Tenere ancora di più Del normale La distanza di sicurezza Dalla macchina che ci precede Mi raccomando A meno che Non abbiate una panda Nel caso in cui voi Abbiate una panda La morte è certa A prescindere Che vi lanci una monetina La bicicletta Abbiamo visto Che comunque Siete terminati Un grande ringraziamento Come sempre Va allo sponsor Di questo video Surfshark VPN Che vi lasciamo qua In this instant E adesso va via Molto bene Supportate Chi supporta questo video Vi ricordiamo Che il link Per abbonarvi E' in descrizione Correte come i passi Detto questo Ci vediamo Nel prossimo video Ciao